Per la Roma le altre vi inseguono, che sfida sarà quella con l'Inter sabato sera? Importantissima sfida, dobbiamo andare lì per fare il nostro gioco e vincere la partita. Sarà la migliore Roma della stagione? Oggi? No, la Roma gioca sempre bene, ci vediamo tutte le partite, le ultime partite ci vediamo sempre bene, facciamo tanti gol e dobbiamo continuare così. Grande prestazione ma sempre il gol è subito dalla Roma? E va bene, sul 3-0 possiamo essere un po' meno concentrati, abbiamo preso un gol così, non è che la defensa non ha giocato bene, abbiamo giocato bene. Le caratteristiche, il meglio con un centrale come Castagna o come Rubica? Tutti e due sono forti, io lavoro per la mia squadra, lavoriamo sempre tutti nella mente, chi decide il mister per giocare io non c'è un problema, tutti e due sono fortissimi e devono aiutare la squadra. Chi è la squadra più forte di... Quale è questa squadra di piaccia del Segato? Finora penso che il Napoli sembra fortissimo e c'è una squadra molto da intercaccio e un bel riso. E se lei la c'è sempre quando lavoriamo di continuare la prossima? Certo, dobbiamo continuare così, siamo una grado squadra e dobbiamo vincere qualcosa. Grazie. Grazie.